Buonasera, benvenuti 8 e mezzo sabato, buonasera, bentornata Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica, buonasera, bentornata Antonella Boralevi, scrittrice che ha anche un blog sulla stampa, si chiama Lato Boralevi e buonasera, benvenuto Francesco Merlo, giornalista di Repubblica, giornalista storico di Repubblica. Allora, i giornali vanno online, gli elettori vanno a destra e forse l'Italia non è mai stata così lontana da quella che Eugenio Scalfari pensava di poter contribuire a costruire, che Italia è, subito dopo la pubblicità. Eugenio Scalfari, In molti dicono che questo governo PD 5 Stelle non abbia un'anima. È d'accordo e serve davvero l'anima a un governo per poter funzionare, per poter andare avanti? Ma quelli che dicono che questo governo non ha un'anima hanno 10.000 ragioni. e perché non ha un'anima? Non ha un'anima perché l'anima non ce l'ha e i 5 Stelle non ce l'hanno. Salvini può piacere o non piacere, ma l'anima politica, diciamo anima politica, ce l'ha e come? Allora, l'affermo perché Antonella Boralevi ha scritto che il successo di Salvini e Meloni è dovuto alla loro empatia. Non parlano dall'alto ma da accanto. Quindi questo governo non ha l'empatia, non ha l'anima come pensa adesso anche Eugenio Scalfari. Guardi, io penso questo, che la competenza è certamente una caratteristica del Partito Democratico ma storicamente appartiene a un filone in cui questa competenza si trasferisce in un comportamento autorevole. Un comportamento nel quale io assumo l'atteggiamento per cui io so e ti spiego. Questo è l'atteggiamento, a mio parere, della gran parte del PD che si espone sui media. Dall'altra parte c'è invece Salvini e c'è anche la Meloni che ha cominciato dopo ma ha saputo seguirlo, lo dico proprio da comunicatrice. Salvini ha capito una cosa fondamentale. La rivoluzione digitale ha la potenza della rivoluzione industriale. Cioè qualcosa che cambia tutto, tutto il nostro modo di vivere, il nostro modo di relazionarsi tra le persone, il nostro rapporto ciascuno con l'altro. E il fulcro del digitale si chiama one to one. Cioè col digitale io non parlo a tutti ma parlo a te. E questo riesce a fare Salvini e questo riesce a fare Meloni. Per esempio ascoltavo ieri sera... Quindi questo governo non è in grado di stabilire un rapporto di... Questo governo è staccato, è lontano. Ieri sera a un certo punto Salvini è stato contestato con prove che quello che diceva non corrispondeva a quello che era successo durante la parte di suo governo. Invece che reagire come avrebbero reagito istituzionalmente altri, cioè dal punto di vista della competenza, non è vero, io però ti dimmose, eccetera. Lui ha reagito one to one dicendo è vero si sbaglia, anche io ho fatto degli errori. Come se stesse parlando con tutti ma ciascuno per volta, capito? Cioè questo, i politici diciamo di questa nuova ondata che viene chiamata populista sono quelli che vogliono far sentire al cittadino appunto io sono accanto a te, sono come te. Non sono né superiore né più, sono come te, che non si sa bene se tutto questo ci porterà a qualcosa di positivo. Tu cosa pensi Francesco Merlo? Ma io penso che una modica quantità di demagogia nella politica ci sta e c'è sempre stata. Adesso invece c'è uno sbraco generale per cui non mi pare che stare accanto, cioè questa idea che stare accanto a qualcuno significa mettere le mani nel piatto, sputacchiare, usare il turpiloquio, cioè togliere... Ma se ti interrompo, io mi riferisco non a quel tipo di gestualità, mi riferisco veramente all'atteggiamento che usa Salvini quando esprime il suo diciamo pensiero politico. Cioè non lo fa dall'alto, lo fa al livello delle persone che lo ascoltano. E la maggioranza degli italiani di questo ha bisogno, cioè di sentirsi non alla pari perché io metto le mani nel piatto, ma alla pari perché io sono lì, mi occupo di te, ma non sono superiore. La politica elite. Ecco, non è la... Sì, però insomma... Ecco, quello. Per questo ha successo, se no... Non so, io non so se è per questo che ha successo, se perché cavalca la rabbia e quindi cavalca delle... proprio le pulsioni, il mob plebeo, no? Che... quindi la paura, l'immigrato, Salvini su questo. Ma non è vero che siano soltanto... La comunicazione di Salvini con la pancia... Ci sono anche classi dirigenti che seguono Salvini, questo purtroppo va detto, insomma. Certo, certo. Certo, se no non avremo tutti questi voti. La xenofobia, la paura del diverso, contro i diritti civili, contro i gay, le donne devono stare a casa, insomma voglio dire la famiglia. Stiamo parlando di spasmi sociali che sono tipici della destra classica. Cioè, poi questa destra classica oggi si mette, va in giro in costume da bagno e invece prima aveva... In mutande, come dico io. In mutande. Questo è la volgarità, il turpiloquio, il turpiloquio nelle radio, il turpiloquio nei programmi televisivi. Cioè hanno... è passata... è saltata la grammatica. E naturalmente quando salta la grammatica gli sgrammaticati ce la fanno. Eugenio Scalfari, secondo lei che destra è quella che... Andrà probabilmente presto di nuovo al potere in Italia. Salvini vuole cambiare la Costituzione italiana. E che cosa lui che pretende di essere? Presidente della Repubblica? No, perché non conta niente. Se non sorveglia, cosa molto importante, sorveglia che le grandi leggi siano attuate. Questo è il Presidente della Repubblica. Questo non importa abbastanza a Salvini. Salvini vuole essere il padrone d'Italia. Salvini vuole essere il padrone dell'Italia. Diciamo... Si fanno tante critiche al leader della Lega. E quando appunto quest'estate disse voglio i pieni poteri e provocò la crisi di governo che ci ha portato alla situazione che viviamo oggi tanti lo hanno accusato di voler minare alle fondamenta il sistema democratico italiano. Lei vede dei rischi, dei pericoli? Io penso... Io ho questo vizio di vedere nella politica anche l'agire dei sentimenti. Penso che quella frase sia uscita dalla bocca di Salvini in una situazione tra l'altro simile a quella che adesso affronta il governo giallorosso cioè in cui i due alleati non riuscivano a trovare una quadra come si dice quindi come in una relazione io l'ho paragonata spesso quella relazione lì a moglie e marito proprio una relazione di tipo matrimoniale penso che Salvini abbia capito certe cose che la sinistra non ha capito cioè Salvini ha capito che le persone non soltanto le classi meno fortunate ma anche quelle più fortunate hanno bisogno di certezze quindi io penso che un uomo intelligente non credo penserà di fare il dittatore ecco penso però che potrebbe anzi io non sono in grado di dare nessun consiglio politico a Salvini però penso che moderandosi davvero Salvini potrebbe diventare un competitor difficile da battere perché accoglierebbe tutti coloro che finora certi suoi atteggiamenti hanno assolutamente tenuto lontano ecco questa è l'asla c'è una nuova versione di Salvini moderato Francesco Merlo perché questo è un po' il punto fermo restando che in base ai sondaggi Salvini è già il primo partito italiano c'è un Salvini più moderato che si sta costruendo un'immagine di moderazione c'è un Salvini un pochino più raffinato un po' pulito si veste con la cravatta ha un rapporto con gli abiti un po' più studiato perché probabilmente quella vicenda lì del papete tutto quel ha capito che lo ha danneggiato un pochino la vicenda balneare estiva e poi ha bisogno di non spaventare quella parte quella parte che ancora c'è di destra non estremista che è un po' quella di Forza Italia e quindi sta facendo questo però poi viene al naturale in un minuto perché quando Balottelli la Segre ci sono gli istinti di Salvini sono quelli e sono quelli che non ha scoperto Salvini perché Salvini non è fascista i fascisti stavano durante il fascismo però Mussolini nel 1922 scriveva di Gramsci che era un obrobrio umano che era una caricatura d'uomo perché Gramsci aveva la gobba era come tutti sappiamo quindi voglio dire quel linguaggio lì è un linguaggio vecchio antico il problema è che quel linguaggio lì si è sviluppato e si è dilagato in Italia quindi andiamo sicuramente verso un regime di destra tutte le destre vogliono diventare regime e quindi vogliono saltare le mediazioni starà a noi e a tutti quelli che non sono d'accordo per motivi diversi e variati di cercare di ancora tenere in piedi quella grammatica che Salvini non sa trattare perché è vero che adesso è europeista adesso è moderato è vero che sta facendo questa operazione però è un'operazione non credibile poi non credibile però scome nell'era della politica che è comunicazione potrebbe invece essere molto convincente credo Scalfari parliamo del premier Conte lei lo metterebbe nella galleria dei leader progressisti italiani Conte è un avvocato era è un avvocato molto bravo professionalmente parlando e politicamente di centrosinistra si è messo a suo tempo nel partito di Di Maio perché? perché il partito di Di Maio non è un partito lei Conte come come lo vede perché dunque è sempre ha sempre goduto di una forte stima dell'elettorato italiano dell'opinione pubblica italiana è ancora al primo posto anche se con questo governo PD 5 Stelle comincia a perderli un po' questi consensi per mantenerli cosa dovrebbe fare? Creare un suo partito? ma io penso che quando si analizzano questi dati si dovrebbe tener conto di un fatto a mio parere questi dati vanno analizzati con la fila di persone che per 5 giorni a Trieste hanno aspettato sotto la pioggia di rendere omaggio ai poliziotti ammazzati dentro la questura di Trieste allora uno dice ma che c'entra Conte con questo? a mio parere magari sbaglio c'entra moltissimo Conte ha i consensi non perché è Conte ma perché la maggioranza degli italiani ha bisogno di un punto di riferimento e il punto di riferimento in questo caos è il Presidente del Consiglio peraltro ogni tanto Conte comincia a agire da diciamo monolite cioè fa lui delle scelte che non corrispondono a quelle del governo giallorosso quindi questo probabilmente conferma questo sentiment però a mio parere esiste proprio un bisogno del Paese sul quale guardate io credo che la politica la politica politicante come si diceva prima dovrebbe riflettere un bisogno del Paese di avere delle certezze ecco ma però lei ha detto un punto di riferimento un punto di riferimento politico istituzionale e non solo empatia avrebbe da dire e non solo Conte non ha empatia no ma appunto però ugualmente quindi in questo è il contrario dei diciamo leader che vanno per la maggiore perché l'empatia è uno strumento e invece il riferimento è un fine è così Francesco Merlo e Conte tu pensi che stia gestendo bene la sua diciamo popolarità e come potrebbe capitalizzare ove mai avesse interesse di continuare a fare politica questo non lo sappiamo ma io credo che la sua aspirazione sia andare verso il partito democratico mi sembra di capire quindi tu lo annovereresti nella galleria dei leader progressisti no 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 ho detto che la sua aspirazione è quella di andare verso il partito dove lo metteresti politicamente nel trasformismo è un sacco vuoto adesso la dico sei molto severo la dico severa sì cioè Conte era era un quasi premier quando nel primo governo era un quasi professore era un quasi avvocato la quasità era la caratteristica fondamentale di Conte poi ha attuato un trasformismo mai visto in questo paese che è il paese dei trasformisti perché è riuscito a senza uscire dal suo ufficio cambiare maggioranza quindi è rimasto presente non c'è un altro esempio nella storia di questo paese nonostante siamo i principi del trasformismo nonostante siamo i principi del trasformismo abbiamo inventato nonostante sia la parola che è il filo rosso della storia d'Italia il trasformismo nonostante questo un trasformista così non c'è stato adesso il suo trasformismo è comunque sempre un po' goffo e anche qui è un quasi di sinistra perché la sua performance a Taranto sul tavolino senza la cravatta con i capelli un po' così ma è andato a Taranto a confrontarsi con la popolazione della città i comitati civici i sindacati i lavoratori dell'ILVA come si dice oggi ci ha messo la faccia è stato coraggioso no? io non lo so è stato populista o ha fatto il suo dovere è stato populista cioè c'è anche questo tema cioè era la sua terra e io avrei preferito cioè io non ci vedo tanto coraggio in questa azione avrei preferito molto più coraggiosamente un discorso competente e serio su cosa produce l'ILVA quanto regge il mercato dell'acciaio come si possono ridurre gli inquinamenti come si fa cioè diciamo che è stata ha fatto una cosa un po' argentina teatro teatro argentino io direi che è stato più teatro che scienza io penso che sia stato suo dovere andare a confrontarsi con gli operai e anche la popolazione secondo me siccome gli altri non l'hanno fatto quindi questo merito senza altro sono d'accordo merito magari andare lì e in più a questo gesto già per se così significativo portare anche dei contenuti che poi avrebbero permesso forse di spostare la discussione su un piano in cui magari si riuscirebbe a arrivare a una soluzione io vorrei passare però adesso a questo Grand Hotel Scalfari che è un libro per Marsiglio appena uscito è un'autobiografia in prima persona di Eugenio Scalfari scritto però da Merlo e da Antonio Gnoli mi dica intanto sono stati due bravi cronisti Gnoli e Merlo è un libro teoricamente scritto da me perché sono io che racconto la mia vita e in realtà fino a pochi giorni prima che uscisse io ero convinto che siccome loro mi avevano fatto delle domande molto numerose e su temi molto variati temi miei privati io la famiglia poi temi culturali temi politici e loro dicevano noi scriviamo un libro e abbiamo bisogno che tu ci aiuti alle notizie tue dopodiché viceversa loro pochi giorni prima che il libro uscisse mi dissero noi veniamo allora per la definitiva farti vedere la definitura la definitiva stesura stesura e mi dettero un libro scritto come un'autobiografia perché io sono io che scrivo io non ho scritto una riga di quel libro l'hanno scritto lui e Gnoli ma è contento del risultato di come hanno lavorato i due cronisti il risultato è perfetto io mi riconosco come l'avessi scritto però non l'ho scritto eh vabbè però importante è che quello che è scritto sia la sua storia infatti quando loro me lo dettero da leggere e mi dissero se tu rifiuti di fare scrivere di accettare che noi scriviamo il libro dicendo che siamo tu eh se non accetti non facciamo niente e mi dettero da leggere io lo lessi in un giorno in due insomma lo lessi subito e dici è perfetto sembra scritto da me ecco io non ho scritto una sola riga l'avete scritta voi aspetti Scalfari perché adesso devo interpellare qui uno dei due redattori autori di questa biografia scritta non scritta da Scalfari è stato un soggetto difficile da trattare no 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 è stato un soggetto divertente da trattare abbiamo passato con lui dei lunghi pomeriggi chiacchierando poi abbiamo ambientato le cose che lui ci ha raccontato abbiamo cercato di dare un'immagine alle persone ai luoghi e quindi abbiamo lavorato in questo modo e abbiamo lavorato non con il rigore e nemmeno con la pedanteria degli storici ma abbiamo lavorato con lo spirito un po' dei romanzieri quindi nemmeno biografi lui è stato il protagonista di un romanzo che è la sua vita che è una vita bellissima lunghissima complicata piena di cose che tutti possono giudicare come vogliono qual è la cosa che ti ha colpito di più della vita di Scalfari? la cosa che è più forte della vita di Scalfari è questa sua voglia di divertirsi c'è un'allegria di fondo una scanzonatura scanzonatezza non so come si dice cioè stare fuori dalla canzone credo voglio dire questo che lo ha accompagnato sempre e che neanche il fascismo e la guerra sono riusciti a scalfire cioè là è il segreto di una lunghissima esistenza e la gioia di vivere per cui il libro è questo cioè il libro non è una geografia quindi non almeno abbiamo cercato di non fare una geografia pur volendogli bene e il risultato è l'aspirazione che avevamo oltre alla letteratura e quindi abbiamo giocato con la letteratura e la musica cioè lui era lo spartito e noi l'abbiamo suonato e la cosa più difficile la cosa più difficile non c'era niente di difficile la cosa più difficile era che che lui è così ricco che è anche molto dispersivo noi volevamo raccontare le cose di lui che lui aveva raccontato di meno quindi abbiamo lavorato per esempio beh ce ne sono tante anche per esempio abbiamo raccontato il rapporto con Montanelli con Indro Montanelli con Indro Montanelli è molto facile dire che Scalfare e Montanelli erano due avversari prendere delle parti in cui si sono magari affrontati con durezza e metterle a fuoco ecco la nostra operazione è diversa noi abbiamo pensato che Scalfare e Montanelli erano i due protagonisti del giornalismo del Novecento e io mi ricordavo perché Montanelli mi aveva raccontato che Scalfare gli aveva offerto di fare il direttore e quando gli ho chiesto questo Scalfare me l'ha raccontato quindi abbiamo quindi fatto un'operazione culturale che fa parte della sua gioia di vivere che poi è il libertinaggio cioè Scalfare va da Montanelli e gli chiede di fare il direttore del suo giornale pur sapendo che Montanelli era il suo avversario c'è solo un libertino giocatore lo può fare un libertino giocatore abbiamo detto all'inizio e tutti lo sanno tutti lo sapete che Scalfare ha fondato Repubblica e Repubblica è diventato negli anni una specie di istituzione in questo nostro paese lei si ricorda Montanelli Boralevi quando è nata Repubblica e nella sua vita è stato un giornale che ha seguito che ha letto con dunque io ero effettivamente abbastanza giovane però mi ricordo molto bene perché quando arrivò a questo giornale tutti dicevano che sarebbe morto nel giro di pochi mesi io credo che forse non ero neanche all'università però era un giornale davvero rivoluzionario cioè faceva appunto una comunicazione completamente diversa rispetto ai giornali che fino all'ora c'erano e quindi devo dire penso che Repubblica sia comunque una testata imprescindibile nel panorama delle testate italiane e credo che abbia avuto successo perché lei Scalfari ha avuto l'idea di far saltare il tavolo cioè a me piacciono molto le persone che fanno saltare i tavoli come Lily Gruber col suo libro uguale cioè basta bisogna far saltare il tavolo non portare dentro un mondo nuovo in cui arrivi per esempio da donna gli stessi criteri che c'erano prima quando c'erano gli uomini bisogna secondo me poi magari sbaglio bisogna arrivare e portare delle novità anche e soprattutto di metodo io credo fermamente che la forma abbia molto molto a che fare con la sostanza quello di sicuro Scalfari quanto le piaceva far saltare il tavolo come si dice beh mi piaceva inventare non le notizie le formule e Repubblica fu un'invenzione come del resto lo era stato il nostro settimanale l'espresso l'espresso fu fondato da Arrigo Benedetti Arrigo Benedetti e me insieme lui era un gran giornalista e io ero un giornalista che era stato espulso questo non l'ho finito di dire ma lo dico in una parola ero stato espulso dal quando ero giovane dal fascismo dal vice presidente generale segretario generale Scorza che fu l'ultimo che votò a favore di Mussolini quando Mussolini fu battuto al Gran Consiglio lui a me mi buttò fuori perché io avevo parlato male dei gerarchi fascisti dicendo che avevano rubato il prezzo dei terreni dell'euro li aveva presi li avevano comprati come terreno agricolo e li avevano rivenduti allo stato di cui erano gerarchi come costruttore quindi il prezzo a cui avevano comprato i terreni dell'euro e a cui lo avevano rivenduto era un delitto diciamo e quindi lei è stato espulso lui mi è espulso senta Scalfari io però adesso voglio farvi vedere il punto di Paolo Pagliaro che c'è un altro libro in cui Scalfari continua a rivolgersi a Dio pochi secondi di pubblicità e poi il punto di Pagliaro ci sono alcune buone ragioni per cui dovremmo essere grati a Scalfari due in particolare ha creato una nuova comunità di italiani riuniti attorno a quelle appartenenze convenzionali che sono i giornali con l'aggravante per chi non ama Scalfari che furono giornali di successo il secondo motivo di gratitudine è che Scalfari raggiunto i 95 anni non ha smesso di tenerci informati questa volta non più sulla politica ma su questioni diventate stringenti come la vecchiaia e la fede ce ne parla con la consueta libertà e spregiudicatezza in due libri di cui uno solo il Dio unico e la società moderna firmato da lui per Einaudi l'altro Grand Hotel Scalfari Marsilio è scritto sì in prima persona ma è frutto di una dettatura raccolta e sbobbinata da due raffinati segretari Antonio Agnoli e Francesco Merlo Scalfari ricorda di essere nato quando in casa non c'erano i frigoriferi e il freddo si ricavava grazie ai sacchi di iuta sui grandi parallelepipedi di ghiaccio di essere cresciuto nelle prime forme di benessere e di essere invecchiato nella moltiplicazione dei gadget dell'usa e getta dei frigoriferi che si regolano a distanza conclusione se la nostra è una specie in continuo viaggio arriva un momento in cui il cammino è la meta non ti danno più alcun brivido in un libro Papa Francesco dice a Scalfari che i vecchi hanno bisogno di cure e di compagnia nell'altro libro Scalfari ci fa invece sapere che lui provvede da sé e compatisce tutti quelli che pur essendo più giovani di lui hanno smesso di amarsi non hanno capito dice che della vita è affascinante anche la vecchiaia quando i ricordi a lungo covati rompono il guscio Scalfari lei come ha fatto a fare pace col passare degli anni con la vecchiaia a fare a fare pace con questo percorso della vita che porta alla vecchiaia beh devo dire che la mia ultima scoperta è stato l'amore per Papa Francesco ma è diventato credente devo dire ricambiato ricambiato io ho avuto una telefonata di pochi giorni fa di sua santità la quale mi dice il quale mi diceva ho letto già metà del suo libro mi piace molto il libro è il dio unico e la società moderna la società moderna il dio unico è una rivoluzione della chiesa delle chiese perché le chiese direi che ogni no no però aspetti non parliamo adesso del dio unico parliamo invece del fatto che lei ha in qualche modo scoperto il fascino della religione in età più avanzata è diventato credente con Papa Francesco no il Papa Francesco lo sa io ho detto fin dall'inizio io sono non credente però mi interessa molto la storia della chiesa e soprattutto mi interessa l'idea che per la prima volta nel mondo e nella storia c'è un sacerdote nella fattispecie un Papa che pensa a un dio unico c'è solo un dio per tutto il mondo e lui cerca di attuarlo andando a visitare delle minoranze o comunque anche delle maggioranze che hanno delle religioni proprie un proprio dio lui per lui il dio è uno e ha ragione e che dio è uno e qui abbiamo adesso aperto un mondo che un po' ritroverete in questo libro di Scalfari che si intitola per l'appunto il dio unico e la società moderna pubblicato da Inaudi poi se volete conoscere tutto quasi tutto di Eugenio Scalfari leggete Grand Hotel Scalfari che è una biografia che non ha scritto lui ma che hanno scritto e interpretato e così messo anche in una forma più di romanzo si legge come un romanzo in effetti questa autobiografia da Antonio Gnoli e Francesco Merlo quindi io vi ringrazio grazie Eugenio Scalfari grazie Antonella grazie Francesco grazie spettatrici spettatori noi come sempre ci vediamo lunedì a otto e mezzo vi lascio ai programmi della rete e buonasera grazie a tutti